Musica Basterebbe vedere come leggiamo il giornale Andiamo subito alla ricerca della cronaca E non delle cose belle Ma avere fiducia significa Mettere la mia vita nelle mani di Dio Credere che soltanto Lui Può dare sapore, importanza e gioia al mio vivere E il Signore questo ce lo fa sperimentare ogni giorno Attraverso tanti fratelli, tante sorelle Che operano il bene Che operano gesti di amore Che fanno carità E allora capite bene come ognuno di noi Deve poter dire come abbiamo ascoltato nel versetto dell'Alleluia Chi segue me avrà la luce della vita Signore Noi ti vogliamo seguire Ma non te lo diciamo perché vogliamo ottenere qualcosa Perché sappiamo che tu sei per me Sei per noi La verità La verità La via E la vita Donaci Ogni giorno Il coraggio Di saper mettere in pratica La tua parola Chiediamo l'intercessione di Maria Con lei che Ha creduto Alla frase Che una donna le diceva Beato il grembo E invece Gesù risponderà Beato chi ascolta la mia parola E la mette in pratica Bene Maria è stata la prima Ecco ci insegna a fare altrettanto Come nelle sue parole Alle nozze di Cana Dirà Fate quello Che lui vi dirà